Qual è l'uso che Salvatore Traina fa della rete di internet? Allora la rete per me è diciamo quasi fondamentale perché la uso quasi per tutto, per le ricerche da scuola, come io favo appunto una scuola alberghera, ricerco le ricette, oppure anche per qualche appuntamento a miei amici uso internet, però bisogna stare anche molto attenti perché bisogna dare il cervello su internet perché ci possono essere anche delle truffe, che magari non ti aspetti, puoi conoscere persone poco affidabili, bisogna stare molto attenti perché appunto io compro anche roba su internet, a volte mi è arrivata roba che non avevo comprato io e quindi bisogna stare molto attenti, bisogna stare il cervello. Vai, vieni.